Arrivato alla Fiera di Parma, questo è il parcheggio di fronte, pieno di camper, anche in vendita. Una distesa infinita di camper in vendita. In vendita e nonna, ovviamente, questo è carino, vendesi, questa pure, questa jeep. Ce ne sono una marea, adesso io provo a entrare. A dopo, ciao!